Una giornata importante voluta dall'amministrazione comunale con presenze istituzionali che vedono presente la regione e ovviamente le istituzioni a tutti i livelli dal governo al Parlamento ma soprattutto i tanti amministratori locali, tante forze dell'ordine. In un momento in cui la Calabria certamente aveva bisogno di un attimo di respiro visto i grandi roghi ma soprattutto nel ricordo di un grande ciclista come Pantani con il quale ovviamente abbiamo per il percorso anche in antimafia quelle grandi denunce, quei grandi dubbi che rispetto ad una morte ancora poco chiara e soprattutto ad una rivendicazione da parte della madre porteremo avanti. Questo lo abbiamo fatto con i colleghi, questo lo faremo oggi testimoniando la sua presenza che lui continua a vivere, a vivere ad essere l'insegnamento per i tanti giovani di uno sport che insegna regole ma soprattutto di una Calabria che allunga memoria. Quindi un grazie anche alla fondazione di Don Gelmini che donerà questa bicicletta in memoria del grande ciclista ma soprattutto un grazie a questa Calabria che rimane sempre quella terra dal cuore grande e dalla memoria lunga. Grazie a tutti!